domenica 25 aprile 2015 in prima serata su rai 1 andrà in onda la seconda delle quattro puntate previste della terza stagione di fuori classe la fiction con protagonista luciana litizzetto ecco le nostre anticipazioni nella vita di isa è ricomparsa sua sorella bea tra le due donne non c'è mai stato un gran feeling sono due persone molto diverse appartengono a mondi agli antipodi e queste differenze sono state alla base di molte frizioni in passato dopo il primo incontro con conseguente dite le due però sono finalmente riuscite a riconciliarsi al punto che isa ha invitato bea a trasferirsi a casa sua almeno sino a quando i lavori per la ristrutturazione della sua abitazione non saranno terminati ma questa convivenza forzata si rivelerà molto difficile da gestire per entrambe nel frattempo il preside del liceo caravaggio vuole a tutti i costi che il suo istituto vinca il premio di miglior liceo dell'anno una sfida decisamente complicata che costringerà isa agli straordinari la prof infatti è stata anche promossa vicepreside studenti ed insegnanti saranno alle prese con una serie di test e prove da superare molto stressanti riusciranno i nostri eroi a conquistare la vittoria finale lo scopriremo nelle prossime puntate